Ancora un volto insospettabile, quello di un imprenditore anti-racket del settore del calcestruzzo, a essere favorito dalla cosca mafiosa di Castellammare del Golfo, territorio del latitante Matteo Messina Denaru. L'organizzazione garantiva il monopolio dell'imprenditore Vincenzo Artale ai 64 anni, imponendo l'acquisto del cemento da usare in tutti gli appalti pubblici e privati della zona. Tra questi anche la ristrutturazione nel viadotto Cavaseno di Alcamo, lungo la Palermo Mazzara del Vallu. Artale, ufficialmente tra i promotori e l'associazione anti-racket di Alcamo nel 2006, aveva denunciato alcuni sattori e il pizzo, devintando un simbolo dell'antimafia. E invece lui intratteneva rapporti con i boss, gli stessi che attraverso intimidazioni e pressioni costringevano i committenti delle società palcatrice ad acquistare da Artale. Diversi sono stati gli episodi estorsivi finiti sotto la lente di ingrandimento dei carabinieri, emersi attraverso la collaborazione di alcuni imprenditori e il Movimento Terra. Dalle indagini avviate nel 2013 è stato scoperto che Artale avrebbe goduto dell'appoggio del nuovo capo della famiglia mafiosa di Castellammare del Golfo, Mariano Saracino. Anche lui un tempo imprenditore del settore del calcestruzzo. Saracino era già stato arrestato una prima volta nel 2000 perché ritenuto vicino a Cosa Nostra. Con Artale e Saracino sono stati arrestati Vito Turriciano, Vite e Martino Badalucco. Sono tutti accusati a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione aggravata, danneggiamento, fittizio e intestazione di beni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.